I consacrati e le consacrate sono chiamati ad essere uomini e donne dell'incontro e custodi dello stupore nato dall'incontro con Gesù. Papa Francesco lo ha ricordato nell'omelia della messa preseduta nella Basilica di San Pietro, nel giorno della festa della presentazione di Gesù al Tempio e a conclusione dell'anno della vita consacrata, iniziato il 30 novembre del 2014. Come gli anziani Simeone e Anna, i consacrati devono vivere la festa dell'incontro con il bambino Gesù, portato al Tempio da Maria Giuseppe. La vocazione infatti non è un progetto pensato a tavolino, ma una grazia del Signore che ci raggiunge attraverso un incontro che cambia la vita. Per questo i consacrati devono promuovere la cultura dell'incontro ed essere segno concreto della vicinanza di Dio con le fragilità dell'uomo di oggi. E anche noi, come cristiani e come persone consacrate, siamo custodi dello stupore, uno stupore che chiede di essere sempre rinnovato. Guai all'abitudine nella vita spirituale. Guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina astratta. I carismi dei fondatori, come ho detto altre volte, non sono da sigillare in bottiglia, non sono pezzi da museo. I fondatori non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con i problemi della gente. I consacrati oggi devono imparare a vivere anche, ha concluso il Papa, la gratitudine per l'incontro con Gesù e per il dono della vocazione alla vita consacrata. Correndo con coraggio le periferie geografiche ed esistenziali.